Ritorna all'Ortigia Film Festival dal 16 al 22 dicembre a Siracusa, Palazzo Impellizieri, cosa sarà possibile vedere? Allora, sarà possibile vedere il concorso di opere prime e seconde con tutti i film bene o male che hanno un'attenzione quest'anno, devo dire, verso il sud e verso il mare Nostrum, con registi appunto da Emma Dante a Fabio Mollo, avremo l'arte e la felicità di Alessandro Rach, Itaker di Tonitropia e Nina di Elisa Fuxas, il presidente della giuria sarà il critico cinematografico Sebastiano Gesù quest'anno, abbiamo il cortometraggio che ha vinto il festival di Locarno, La strada di Raffaele, poi documentari, una vetrina di documentari veramente interessante da Donatella Finocchiaro che sarà presente e ci presenterà il suo andato e ritorno, che parla della New Wave catanese musicale degli anni Ottanta che noi abbiamo tanto adorato, a quanto pese il suo edificio Mr. Foster dedicato agli architetti e all'architettura. Tutte le prime visioni che faremo a Palazzo Impellizieri verranno ripetute il giorno dopo a Siracusa 3D Reborn che è l'ex Salamandra. Offerta ricca ma quanto è stato complicato questo festival, la quinta edizione, metterla su, grande sforzo ma soddisfazione alla vigilia? Sì, grande sforzo, soddisfazione alla vigilia, spero che ce la daranno i siracusani, sforzo già dei siracusani perché l'imprenditoria siracusana ha deciso in qualche modo di appoggiarci per riuscire a salvare il festival. Lì il comune ci ha appoggiato con le location, chiediamo anche al pubblico siracusano un piccolo contributo per i film di 4 euro, di 3 euro per i cortometraggi e documentari perché quest'anno ci serve realmente. Grazie. 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 Grazie.